Ora faremo la prova con liquido tracciante. Verseremo qui dove abbiamo fatto lo strato impermeabile per verificare la tenuta idrica del sistema impermeabilizzativo. Qui ho messo dei tappi in modo da poter riempire tutto questo piano e verificare la tenuta dello strato impermeabile. Ora stiamo facendo il collado della tenuta del sistema impermeabilizzativo di questo ingresso. Ho messo liquido tracciante e verifichiamo la tenuta di trovando il sistema impermeabilizzativo in modo che una volta tornata e verificata la tenuta poi andiamo sopra quel pavimento. Questo è il lavoro che si deve fare una volta che si è fatto un sistema impermeabilizzativo come in questo caso in modo da vedere la certezza che l'incremento sia riuscito oppure c'è da fare qualche ulteriore operazione per garantire la tenuta fisica.